Io ho dei ricordi bellissimi, 74, anzi no, 75, 76 e 77. Tagliamo da scuola e andavo a Filadelfia a vedere gli allenamenti della mitica squadra che vinse lo Scudetto, con delle fotografie di bianco e nero, di Pulici, di Graziani e di tutta quella squadra meravigliosa che vinse il Tricolore. Ma anche l'anno prima e quello prima ancora, la mattina, e specialmente il giovedì, quando la squadra faceva la partitella con la primavera, ero presente. Era un mondo diverso, vedevi arrivare i giocatori a piedi, con delle macchine minuscole, vedevi le maglie appese nel cortile, stese, appena lavate, poi stirate da una cicciona che stava in uno di quei gabbiotti al piano terra dello stadio. E poi la cosa interessante di quello stadio è che ti sentivi parte dello stadio. Io intanto entravo, ho anche giocato una partita con dei giornalisti, e mi divertivo a fare il racchetta-pale, mi mettevo nelle curve e aspettavo che la squadra buttasse la palla di là per ributtarla di qua. Eh, sono cose che non torneranno, o meglio, stanno per tornare, ma non saranno più quelle. Salute!